Il roteo a Dunsville Una volta sbalzati di sella, i partecipanti al roteo sono pregati di non avvicinarsi allo steccato. Tentare la fuga a cavallo? Beh, meglio non pensarci. Bisogna che anche il quadrupede sia d'accordo, ma i quadrupedi a quanto pare sono dalla parte dei secondini. Lo chiamano il più furioso roteo del mondo e per qualcuno lo è davvero. Mannaggia, verrà il giorno dell'amnistia!